Pronto? Il risultato che in cento paesi del mondo nessuno capisce di un cazzo. Ed è meraviglioso perché se ci pensi siamo parte di ogni cosa, siamo ogni cosa. E mentre i diciotto paesi si avvalgono delle sue tariffe esorbitanti, ce n'è uno che ne trarrà sempre l'inculata maggiore. Grazie per la visione.